A Sulmona, prepartita spettacolare, a riempire gli occhi la catena montuosa della maiella che avvolge la città e la zona circostante. Non solo, il tenore Maurizio Pace canta l'inno di Mameli qualche minuto prima dell'incontro, deliziando i circa 600 presenti. Il cantante in questione è originario proprio di Pratola Peligna. Al seguito del Lupo anche 130 tifosi rosso-blu, qualcuno anche nella gradinata locale. In tribuna il presidente De Lucia e l'ex tecnico del vasto Girardi Alberto Bernardi, oltreppure a Pasquale Luiso, il Toro di Sora. Finisce 2-1 per il Campobasso in zona Cesarini contro un volitivo Nero Stellati. Fase iniziale di studio con un corner battuto a testa, ma nessuna palla goal a provarci. E prima il Campobasso, al tredicesimo con un tiro cross dalla sinistra, impreciso calciato da Leone. La palla goal più consistente per i locali, un solo minuto dopo, crossa bene di Rosa, impatto con la sfera di Palombizio che non colpisce troppo bene, graziando i rosso-blu. Al diciottesimo d'Agostino vorrebbe l'esatto bis di domenica scorsa, ci sarebbe però da correggere la mira. Non di molto, mani nei capelli per il dieci rosso-blu. Il Pratola sembra prendere coraggio al ventiduesimo sinistro senza tante pretese di pacella, accompagnato dagli applausi del pubblico di casa. Decisamente più in partita i bianchi, al ventiquattresimo vicinissime al gol con questo tiro da lontano di Isotti. Qualcuno dalla tribuna aveva già iniziato a gioire, ma la palla si spegne sul fondo. Il campo basso è avulso dal contesto della partita, fanno un'ottima figura i locali che provano al trentaseiesimo ad affondare con Giallonardo che gode di tanta libertà prima di essere chiuso da Del Duca in calcio d'angolo. Sprazzi rosso-blu quasi al quarantunesimo, cross di Ribeiro, girata di D'Agostino ribattuta, tiro finale a lato da parte di Vecchione. Nel finale i ragazzi del Nero Stellati colgono i frutti del buon primo tempo, verticale di Valente per Giallonardo. Anche qui liberissimo, tiro o cross? È da decifrare, sta di fatto che la palla finisce alle spalle di Landi. Un campo basso imbambolato, si becca il gol prima dell'intervallo. Chissà che non possa essere lo schiaffo giusto per scuotere una squadra priva di nerbo ed iniziative. Al secondo della ripresa Foglia Manzillo inserisce Bolzan al posto di Del Duca che sente tirare l'adduttore. Adesso succede tantissimo, al quinto cross pennellato da D'Agostino, Pacella si traveste da attaccante rosso-blu e segna involontariamente nella propria porta in un incredibile autogol che stabilisce la parità. Deve passare soltanto un minuto per una guardia morbida di Elefante su Coney che crossa la palla sfiorata al centro, poi forse controllata con un braccio da Capozzi per l'arbitro e calcio di rigore per il Nero Stellati. Dal dischetto si prepara i Sotti, straordinaria la risposta di Landi che neutralizza il tiro dagli 11 metri. Al nono è D'Agostino, prende di mira il primo palo parente, deve allungarsi per parare. E' tutto un altro campo basso, al tredicesimo corner di D'Agostino respingono i locali, scocca il tiro Lanniena con un colpo di Reni e parente a deviare in angolo. Sugli sviluppi del calcio d'angolo l'azione porta ad un cross di Ribeiro su cui è in minimo ritardo la corrente Capozzi. In casa rosso-blu passa lo spavento anche se il Nero Stellati continua ad essere in palla. Al trentaquattresimo angolo di Gerardi vuole la finezza di Tacco Danucci ma non gli va troppo bene. Forcing finale nel segno del campo basso al trentasettesimo cross di D'Agostino, stacca Capozzi che trova un avversario ad allontanare. Ad un minuto dalla fine cross pennellato di D'Agostino, torre di gurma per Capozzi che viene cinturato in aria da Palombizio. Stavolta il calcio di rigore è per il campo basso. Dal dischetto D'Agostino è freddo e porta in vantaggio il rosso-blu. Situazione capovolta per gli ospiti proprio nel finale. D'Agostino segna il terzo gol consecutivo con la maglia rosso-blu ma non si ferma qui perché al quarantottesimo serve bene Gurma che viene chiuso sul più bello. I Lupi si riservano altre palle gol negli spiccioli finali. Al quarantanovesimo tiro in aria di Gerardi respinto da Parente mentre un secondo prima del fischio finale con E si vede negare il clamoroso 2-2 da un sempre reattivo Landi. Tante le emozioni che si sono susseguite nella ripresa. Alla fine è festa per il campo basso ed i suoi tifosi che si godono le primissime posizioni di classifica.